Molto breve. Allora, Maremma Costa della Vela è un progetto di promozione turistica promosso dalla PT e dalla provincia di Grosseto ed è legato alla pratica della vela, del windsurf e del kite lungo tutta la costa della Maremma. Insomma, penso sia superfluo dire che la Maremma è veramente un'area ad alta vocazione turistica, ha delle enormi potenzialità appunto sia per tutti gli sport all'aria aperta ma soprattutto per la vela, quindi gli sport legati al mare. Io insomma sono cresciuta, come tutti sapete, agonisticamente qui in Maremma e sono anche tornata grazie anche al progetto che mi aveva portato alle ultime Olimpiadi di Pechino qui in Maremma ad allenarmi nei nostri campi di regata e vi posso assicurare che abbiamo una grandissima fortuna. Questo è legato appunto molto alla mitizia delle stagioni, alla nostra conformazione della costa e alla presenza sempre di venti forti e costanti durante tutte le stagioni. È una meta ideale quindi per chi è amante della vela in generale, non parlo solo quindi di agonismo ma proprio amante della vela, della passione per la vela, il windsurf, il kite e anche il surf. Quindi ecco, questo progetto vorrebbe riuscire a far diventare la Maremma uno dei paradisi degli sport velici. Qui ci sono alcune caratteristiche della nostra costa, la Maremma ha 208 chilometri di costa, ha un clima appunto mite tutto l'anno, quindi si può navigare praticamente 12 mesi l'anno, c'è forse giusto il mese di gennaio che è il mese quello un pochino più difficile, però poi altrimenti le temperature ti permettono veramente di stare in mare tutto l'anno. In estate e in primavera abbiamo la prevalenza della nostra brezza termica che noi chiamiamo comunemente maestrale, in autunno e inverno invece sia venti dai quadranti meridionali ma anche la tramontana e il grecale. Quindi ecco poi la formazione della nostra costa permette veramente di spostarci e quindi di trovare sempre la zona ideale per poter uscire anche in base al mezzo con cui appunto vogliamo uscire in mare, che sia appunto la vela o il windsurf o il kite. Quindi queste sono tutte caratteristiche che permettono un'attività di 12 mesi l'anno. Noi siamo già molto noti, la Maremma è molto nota per la qualità tecnica delle regate e le capacità organizzative in tutto il mondo. Ci sono numerosi eventi a livello internazionale lungo tutta la costa, quindi da Follonica a Scarlino, a Puntala, a Castellione della Pescaia, a Marina di Grosseto, Talamone, Santo Stefano, Portercolo, quindi tutto l'Argentario. È anche una zona bellissima per poter fare delle crociere perché ci sono angoli della natura incantevoli. Quindi vado avanti veloce perché insomma siamo in ritardo. La condizione però essenziale per la riuscita di questo progetto è il coinvolgimento di tutti gli interlocutori, quindi dagli operatori turistici, le aziende che operano nel settore della vela, della nautica, club velici, le associazioni, gli enti locali e pubbliche amministrazioni. Questo per dare appunto una grossa forza al progetto. Io però per partire sono partita facendo un po' un elenco di tutti i circoli e le associazioni che già operano lungo tutta la nostra costa. Sono più o meno 30 e quindi secondo me è importante partire appunto con questo zoccolo duro per riuscire all'inizio a dare visibilità al settore, a promuovere quindi lo sport della vela partendo da lì per poi arrivare a coinvolgere tutti gli interlocutori del settore. Questo anche per permettere alla provincia e all'APT di capire quale è l'offerta attualmente sulle nostre coste. Il progetto si sviluppa così, ci sarà una sezione dedicata alla vela sul sito dell'APT, questo è un po' il punto focale del progetto perché in questa maniera al sito dell'APT sarà affidata all'informazione completa del settore della vela. Quindi su questa pagina ci saranno il link di tutti gli operatori del settore che aderiranno al progetto, la possibilità di avere una piattaforma multimediale e quindi poter scaricare filmati e foto degli eventi e dei servizi che vengono offerti, la pubblicazione poi e la promozione degli eventi sull'home page e quindi poi la possibilità attraverso anche la newsletter di cui parlava il direttore dell'APT di informare, far arrivare in tutta la provincia l'informazione sugli eventi che si possono trovare lungo tutta la nostra costa. ci sarà anche la realizzazione di una brochure, un esempio è quella della brochure che avete trovato all'ingresso relativa al SUB, quindi una brochure del genere dedicata esclusivamente alla vela. un altro aspetto che io ritengo molto importante perché è un servizio che verrebbe offerto in più a chi è amante appunto degli sport velici e cercare di monitorare tutta la costa con delle webcam. Ci sono già delle webcam attive nel nostro territorio quindi l'intenzione è quella di riuscire ad arrivare a mettere in rete le webcam che già ci sono ma integrare nelle zone invece dove sono ancora scoperte con l'installazione di nuove webcam. Questo è sollecitare poi quindi gli operatori alla costruzione di un'offerta tematica e questo penso che sia poi l'obiettivo finale proprio dell'APT quello di riuscire ad arrivare a capire appunto il settore della vela per poi offrire dei pacchetti turistici. Il progetto prevede anche una manifestazione che io ho chiamato la Festa del Vento il 22 e 23 maggio a Marina di Grosseto davanti alla chiesa quindi dove c'è il cavallino lungo la passeggiata ci sarà un villaggio lungo proprio la passeggiata dove ci saranno delle esposizioni di derive di windsurf di kite ci sarà un gazebo con l'info point dell'APT e anche una zona riservata ai club e alle associazioni che aderiranno al progetto e che potranno fare promozione per quanto riguarda i loro eventi e i loro servizi. ci sarà anche un grande un maxi schermo dove verranno proiettati filmati filmati che ovviamente relativi alla maremma e anche a i filmati che forniranno i circoli solo con musica niente parlato e ci saranno poi anche delle lezioni di vela virtuale quindi la volontà di cercare di prendere proprio il passeggio di prendere le persone che non conoscono quest'ambiente e cercare di appassionarle davanti alla passeggiata un'occupazione massiccia della spiaggia con lo specchio di mare a disposizione per poter fare delle dimostrazioni per poter fare delle prove quindi la partecipazione appunto dei club delle associazioni delle scuole di vela nel portare alcuni mezzi per poter far provare a chi vuole le varie imbarcazioni e quindi appassionare cioè l'obiettivo un po' di questa festa è quello di riuscire ad appassionare gli altri attraverso appunto la nostra passione che è stare in mare con la vela quindi questo è l'obiettivo principale dell'evento grazie